Continuano le trattative del direttore sportivo del Brindisi, Sandro De Solda, per provare a portare a Brindisi pedine importanti che vadano ad infoltire e a rafforzare la rosa a disposizione di Enzo Maiuri. Sembrerebbe ormai chiusa la trattativa per l'ingaggio di Diego Centanni, esterno di difesa Centanni, classe 92, proviene dal Nardò. Si tratta di un giovane interessante che può giocare sia a destra che a sinistra, ma dalla società neretina potrebbe arrivare anche Corvino, esterno di centrocampo, classe 91. Ma il Brindisi non molla ed insiste anche per aggiudicarsi un'altra pedina importante del Nardò, Esteban Pereira. Ma i nomi degli attaccanti che piacciono alla società bianca-azzurra sarebbero più di uno. Secondo indiscrezioni pare che siano state intavolate trattative per aggiudicarsi le prestazioni di uno tra Roberto Palumbo, ex Nocerina d'Aversa, e Luciano Pignatta, anche lui ex Nocerina. Entrambi i giocatori sono in forza l'Ebolitana nel girone B della seconda divisione. Tra l'altro, nelle ultime ore, pare essersi riaperta la pista che porta a Rosario Maiella, attaccante della Casertana, già contattato qualche settimana fa. Ma alla fine potrebbe spuntarla anche qualche nome che non è ancora circolato nell'ambiente vicino al Brindisi. Ma il DS De Solda è alla ricerca, oltre che di una punta, anche due centrocampisti. Sul fronte delle uscite ricordiamo che hanno già lasciato il Fanuzzi, Stabile, D'Amblè, Scarcella e Uicani. Sembra destinato ad essere schierato subito in campo, invece, il difensore centrale Claudio Miale, mentre all'altro difensore, Angelo Buono, sembrerebbe interessato il Racale. Intanto, sul fronte del calciogiocato, il gruppo a disposizione di Maiuri continua a correre, in vista del derby di domenica prossima al Damuri di Grottaglie. Ancora in forza è l'attaccante Nando Galetti, che risente di una botta alla caviglia, un infortunio che il puntero argentino si porta dietro ormai da un paio di settimane. Il giocatore, infatti, è sceso in campo a Casarano nel match contro la Casertana solo grazie alla sua determinazione e a qualche infiltrazione. Non sarà certamente a disposizione di Maiuri, invece, il giovane Gennari. Anche lui è le prese con un problema alla caviglia. Il suo stop potrebbe essere almeno di due settimane. Sta recuperando il portiere di Gregorio, che nella rifinitura di sabato scorso aveva riportato una contusione ad un ginocchio. Intanto, sul fronte societario, è prevista per il prossimo 21 dicembre l'Assemblea dei Soci per procedere con l'eventuale ricapitalizzazione. Se avrebbero pronti un paio di soggetti economici ad affiancare gli attuali soci. Mentre l'imprenditore Nicola Lisi, che sembrava vicino ad un accordo per rilevare addirittura la maggioranza delle quote, pare il momento deciso a restare vicino al calcio bianco-azzurro, solo come sponsor. Grazie.